Ebbene raga, con Emanuele siamo tornati in un nuovissimo video Allora, oggi prendetevi a fare una reaction con questo tizio qui brutto Ciao Sì, il suo canale sotto in descrizione e anche il video I vlog che abbiamo fatto insieme E anche il video senza la reazione che faremo vedere adesso E vabbè, buona visione! Ok ragazzi, possiamo iniziare Vi lascio sempre il link senza la nostra reazione in descrizione Iniziamo a prendere il mio canale Sì! Sette Oh madonna mia! Attenzione, parte la rissa! Vabbè, quello capito è spesso per me L'aria buona normale Madò Non è per niente fuori gioco, guarda Ma vabbè Questi epipali, è vero Che non è vero, tu hai 4 pali in eseguito Non c'è la spiglia Non c'è il portiere Portiere, la latta Ma quarta Ma che spiaggia? Vediamo che entra dentro la porta Ma che succede? Balla Ma vabbè, perché vuole la farla Ha sbagliato il balletto Bravo Sbagliato il balletto Ma di testa Ma cos'è? Ma fa impressione Aiuto Il mio risultato è per questo bambino La terza, ovvio Talo Ovvio, salvaggio sulla legna Ovvio, il mio non portiere Mamma Oddio, ho caduto Addio È caduto Cos'è? Cosa? Che succede? Che succede? Cosa succede? Ah, anche io Ecco Fortnite Vediamo se è Hashtag Fortnite Mi commenti Ma non è Come fa ad essere il gol? Non è il gol Non è il gol Sto bestimare Dai, di bala È Gesù È Gesù Non è manco entrata Sì, intanto Ah L'ha segnata Hunter Alex Hunter, regà Hunter, vai Io ho preso Danny William Seif Ah, che c'ha lui? No Ma regà Non riri No, voglio capire Cosa è successo? Le mutande Mamma Non perverti Quando gioco io online E io ho gli Ashing in Port Che gol Che gol Ah, vedete nel mio canale Il 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 Builder Della mia squadra Sì È piena di icon Sì, aiutate il suo canale Che è piccolo Sì, piccolo Ha 30 iscritti Sì, vabbè Perché ho 30 iscritti? Io c'ho 200 Oddio, oddio Oddio What? Che cos'è? È vero che ti stai così Non è mai gollo Guarda, guarda, guarda Sì, è entrata È entrata Che è entrata? È entrata Eh? Era entrata Questo è Che gol Madonna Il tuo gol Io vi dico solo Che ho ben 38 iscritti Eh Non sono 30 E ricevo Madonna Madonna No No Alzi un attimo Ma no Aspetta No, no, no Vediamo il video Ma cos'è? Ma cos'è? Ha lasciato L'ha lasciata L'ha lasciata Ha fatto Questa Le gambe Vai Tanto sta stranunciando FIFA E' scomparso il portiere E' scomparso il portiere Ora ricomparo il portiere No Ah, che dolore Ma che po' il portiere Sto ad attacco Regà La cosa? Cos'è? Non ho capito E' chi vuole Ah, questo What? Sono due Cosa? Emma Non ho capito Il portiere Perché E' vabbè Sai di lisci Che fanno L'avversione C'è Cristiano Ronaldo Toti No, vabbè E' dici Quando uno C'è Ronaldo Toti E' altro Il bambino Gesù Che dice A Nero E' un'è più Rio E' morto Mi spiace Ma deve fare un bambino Saltate C'è anche il nogger In mezzo Ma che è successo? Poliscia Ma deve A ver Siete in due Ma ce l'ho preso Il pallone C'è rimasto incastrato Povero Oddio A me è successo Con il viaggio di Hunter Ho preso F Il best goal Vediamo Ah beh Questo è l'ultimate team Perché Dove deve essere carino Oh Drax Non è uno da Bravo La condizione Che consiglio Si sta andando Lo studio Compra Modric Duvani Sei un genio Della madonna Guarda Io non ho mai Giocao in ultime team Non ci giocherò Mai Bravo Che A prete Eeeh Ma che ho fatto sto go No Ok Altima Ti Infatti Non siete più il power 8 Siete in pinguini Il team pinguino Pinguino 8 Siamo 272 Eh vabbè regà No siamo 272 Vabbè regà No regà Che go la fa No Spiega come la fa Ha triplato tutti Ma comunque Io c'ho messi Là C'ho Henry Dove è sciata No Dove è fatto Brutto Ma regà Facciamo anche C'è qui Putt putt Facciamo anche Non c'è No mentre Era massimo Centotresimo L'audio di sto microfono Fa schifo Non è questo Non so È questo È questo Pugit Però master scuro In hd di minecraft Madonna Da vivo Ora Regà Scherzo 5 minuti di registrazione Ok Regà La cosa È per chi viene Il video Sì Io La sedia Alla solito Vallo di fortuna Non si può guardare Così più brutto Nel mondo Quindi ciao